Buongiorno, sono Eugenio Sartarelli del sito www.investimentivincenti.it e oggi volevo trattare un argomento che tratto poi anche nel corso delle opzioni che faccio, ne farò uno il 14 novembre, e riguarda la lettura del mercato tramite le opzioni sottostanti, sia dell'indice e soprattutto dei titoli. Qui vedete un grafico che sembra abbastanza complesso, ma adesso ve lo spiego, l'ho già fatto vedere anche altre volte, e abbiamo i titoli che hanno delle opzioni, intanto c'è l'indice, i titoli che hanno delle opzioni e poi abbiamo il volume e l'open interest, e poi abbiamo il put call ratio, cioè il rapporto tra il put e le call. E qui è importante valutare tutti e due, sia quelli inerenti ai volumi, sia quelli inerenti all'open interest, perché quelli dei volumi sono più legati a un sentiment di breve periodo, una o due settimane. Invece quelli legati all'open interest, che sono il totale delle posizioni aperte, sono legati a un periodo più lungo. Ovviamente io non tengo buoni tutti i risultati, ma vedete che faccio un filtro, uno sui volumi, c'è scritto vol, ma non è volumi, scusate, è legato all'open interest, ma quello è più importante, quello è più importante, lo vediamo successivamente, è quello legato al controvalore delle opzioni, cioè quanto valore muovono le opzioni in base alla tipologia di contratto, vedete per esempio il Banco Popolare, ogni opzione trattata muove un sottostante di 3100 euro. Bene, io tengo con tutte le opzioni trattate rispetto alla capitalizzazione e tengo in considerazione in genere solo quelle che hanno un valore superiore al 2%, faccio un filtro, quindi vedete che sono solo alcuni titoli quelli buoni, sono sottolineati. Oppure si può tenere conto ancora più precisamente non solo della capitalizzazione, ma di quanti titoli veramente possono essere scambiati perché ci sono dei patti di sindacato e quindi a questo punto vedete per esempio nel caso Fiat si passa da un controvalore di opzioni che è altissimo, ormai sono mesi che è altissimo, del 30%, in realtà diventa il 45% se tiene conto solo di quelle scambiabili perché ci sono alcune azioni, una quantità di azioni che assolutamente non verranno mai messe sul mercato. E allora andiamo a vedere, a fare la lettura, oggi il 27 ottobre i dati sono riferiti alla chiusura di oggi delle azioni, per le opzioni sono i volumi di oggi e l'open interest riferiti a quelli di ieri. Intanto vediamo qui positivo per il Banco Popolare, anzi direi molto positivo, sul Banco Popolare ci sono dei movimenti molto forti perché vedete, put call ratio e dell'open interest, i volumi bassissimi, quindi primo segnale qui positivo. Saltiamo quelle che non sono importanti e andiamo a vedere un altro positivo che è intesa San Paolo, che anche qui evidentemente c'è un eccesso di call, quindi è un segnale positivo del mercato sia sui volumi che sull'open interest. Con il filtro, io uso come filtro, voglio avere un valore inferiore a 0,8 di put call ratio, quindi un 20% in più di call rispetto alle put. Un altro positivo è Mediobanca, anche qui abbiamo un eccesso di positività, diciamo, nella fase attuale. ripeto, stiamo guardando solo quelli sottolineati, andiamo a vedere gli altri. Qui abbiamo invece coperture, coperture da Terna, dove vedete che abbiamo un eccesso proprio di put, sia sui volumi che sull'open interest e quindi anche qui su Terna c'è qualcosa, evidentemente, si teme qualche movimento particolare, non è molto chiaro a questa situazione. Un'ultima cosa, vorrei leggere il totale. Vedete che il put call ratio dell'indice sia dei volumi che dell'open interest è maggiore di 1, come spesso è, ma l'open interest genere è un po' più alto di questo, quindi ci sono un po' più di call del solito, quindi il sentiment è ancora abbastanza positivo sul nostro indice malgrado la correzione degli ultimi due giorni. Se invece andiamo a vedere più in dettaglio, vedete qua, questa colonna, dobbiamo leggere questa e questa, se andiamo più in dettaglio vediamo invece il put call ratio del totale delle azioni, che è intorno a 1, 0,96 per il volumi e 1 per l'open interest, che non è male. Se teniamo il conto dei pesi delle opzioni, più o meno siano sempre lì, guardiamo solo quello dell'open interest, che è più importante. Se mettiamo le MIB siamo sempre intorno a 1 e diciamo che il sentiment qui è neutrale, leggermente positivo, tenendo conto di tutto il totale. Io in realtà poi sono andato a distinguere titolo per titolo. Un'altra cosa che volevo farvi vedere è che l'open interest delle opzioni sull'indice è circa 1,8 volte di quello del totale delle azioni per l'open interest e circa 2,8 volte quello dei volumi, sui volumi, cioè vuol dire che le opzioni sull'indice muovono molto più capitale e quindi va tenuto conto. Un'ultima cosa, quello che avevo fatto vedere prima Fiat, vedete che Fiat sta muovendo un ingente quantitativo di opzioni, sono molti mesi che sta facendo così, però andando a vedere Fiat, tornando a Fiat, vedete che ha un open interest, cioè scusate, un put call ratio sui volumi molto basso, quindi più call, quindi nel breve termine c'è più sentiment positivo, però prevalgono le put nel medio lungo termine, cioè quello dell'open interest, quindi segnali contrastanti, buono nel breve, una o due settimane e poi prevalgono invece una logica più di copertura. Quindi questa più o meno è la logica, l'ho fatto vedere molto in fretta una carrellata, ma questa è la logica che bisogna seguire se si vuole analizzare il put call ratio, il sentiment sui titoli e sull'indice. Poi si può anche essere più precisi, si può essere anche più precisi e andare a vedere poi sui vari strike e le varie scadenze quali sono le maggiore quantità di opzioni che sono scambiate, lì si può essere anche più precisi e andare a vedere più in dettaglio. Comunque già qui avete un primo quadro.